Non riesco ad aspettare, vuoi, dico il mio figlio, se dirà, oh, senza prezzo e senza cuore, fare le fiori e non parlare, non riesco ad aspettare di più. Allora, domani mi chiamarei tu? Sì. A che ora? No, il mattino. Jackie? Eh, dai, non li disturbare, dai, spegni le luci, che qua non c'è da pagare 157 euro. Jackie? Contagiato tutto in Veneto. Sono anche dei malati ieri. Ci volevo fare questa cosa, pur con Milano. Jackie? Roni? E' che viaggiare? Anche i treni, un'altra è che dettagliare. Eh, già. Dai, finisci, dai, spegni qua. Dai, spegni! Secondo me tutto si dà empriagare. Perché non è possibile che ti convocco un minuto. Dai, via! Dai! Dai!